In questi giorni stiamo assistendo ad un vero e proprio balletto delle responsabilità sulla riapertura del centro sportivo Lenaia di Di Pescara. SLCCGL e Fiscat CISL si inseriscono nel dibattito di queste ore sul ruolo della struttura sportiva di proprietà della regione Abruzzo e sulla rilevanza dell'avvertenza dal punto di vista occupazionale. Sembra quasi di assistere ad intervalli regolari al triste epilogo di un film già visto, dicono ancora i sindacati, secondo i quali appare evidente a tutti la grave situazione in cui l'intero settore sportivo è costretto ad operare, ma dall'altra invece appare meno chiara la responsabilità sulla mancata riapertura delle Naia di, quella di trovare soluzioni in grado di rispondere all'emergenza e dare prospettive al centro sportivo e dei suoi lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori ricordano gli impegni che la regione Abruzzo ha assunto nei confronti di tutte le parti in causa dopo quasi due anni dal bando pubblico che ha assegnato la gestione provvisoria della struttura, che però non ha cambiato nulla. Secondo CISL e CGL, la regione Abruzzo, proprietaria dell'impianto, rimane il principale attore a cui affidare la responsabilità di garantire la funzione sociale dell'impianto. Alla luce di queste considerazioni, si legge nella nota dei sindacati, stiamo chiedendo da tempo all'istituzione regionale un tavolo di confronto per comprendere e partecipare alle scelte indispensabili da prendere, anche in vista dell'imminente scadenza dell'affidamento temporaneo previsto per il prossimo mese di luglio 2021, nell'intento di garantire un futuro all'impianto sportivo e di assicurare una prospettiva a quanti operano e lavorano. Al suo interno non si può immaginare di sostenere il ruolo pubblico di una struttura senza affrontare i relativi problemi economici ed occupazionali, concludono i sindacalisti, che in riferimento alla sostenibilità economica dell'impianto denunciano eventuali inadempienze da parte di alcune associazioni sportive dell'ATI, ma altresì rimarcano la necessità di evitare un contenzioso tra l'attuale gestione e la regione Abruzzo, che rischierebbe di pregiudicare ulteriormente la situazione, con conseguenze gravissime sul piano occupazionale, sociale ed economico.